Ciao, da Autoriparazione NovaCart, la migliore amica della tua auto. In questo mese di marzo farò una piccola carrellata delle chilometri zero appena arrivate e delle aziendali. Subito disponibili qui nella nostra sede a trecate www.novacartauto.it Vedi le nostre offerte e anche in questo mese confermo la mia campagna. Compro una macchina in pronta consegna, il primo tagliando lo pago io. In arrivo per il mese di marzo, Fiat Panda 1.2 Easy, chilometri zero, disponibile bianca e in arrivo anche colore nero a partire da 9.900 euro. 500 1.2 allestimento Lange, sempre chilometri zero, già con cruise control, radio grande app e sensori di parcheggio posteriore. 500 City Cross, sempre chilometri zero, 1.4 benzina, 95 cavalli, disponibile anche con allestimento GP. Opel Crossland 1.2 sempre chilometri zero, sempre del 2020, da 17.400 euro, allestimento in 9.000 euro. Disponibili auto aziendali, Fiat Tipo 1.4 benzina da 10.900 euro. 500 1.2 Lange, aziendale, anno 2019, chilometri 18.000 da 9.900 euro. Prezzo disponibile, Toyota Ego aziendale, 18.000 chilometri, anno 2019, ancora in garanzia da 9.900 euro. Sponibili nuovi mezzi quadricicli totalmente elettriche, con la portata fino a 700 kg del marchio Regis, di cui siamo concessionari. Ti aspetto qui in sede, a Trecate, in via Mottarone 7, visita il nostro sito per tutte le nostre offerte. www.novacartauto.it